la passione di gesù cristo di padre gaetano da bergamo 11 aprile gesù su da sangue nell'orto del gezzemani punto decimo più forte soffiano i venti più vigoroso divampa il fuoco così succede anche per la carità di gesù che cresce con l'aumentare dell'ingratitudine umana chiamata dai santi padri vento maligno perché è tanto forte da prosciugare le sorgenti della misericordia divina riflessione alla mente di gesù si presentano numerosi sia i peccati che verranno commessi sia i peccatori che non si salveranno nonostante la sua passione ma non per questo la sua carità si ebolisce anzi arde ancora di più la ragione umana e i sensi vorrebbero in qualche modo costringerlo a non accettare sofferenze che per molti sarebbero stati inutili ma la sua carità lo infiamma e lo consuma come il fuoco la cera in questa lotta della sua carità con l'ingratitudine umana gesù vede che egli stesso redentore misericordioso dovrà essere anche giudice giusto nel condannare molte anime peccatrici da lui redente nell'orto sente quella sentenza di condanna in modo chiaro e preciso come se dovesse pronunciarla in quell'istante che tormento per la sua carità gesù non aspetta che arrivino i carnefici ad infiarire su di lui ma li previene per dimostrare con un abbondante fusione di sangue quanto la sua carità sia ben più grande della loro crudeltà colloquio anima mia pensa ora al tradimento di giuda che ha venduto gesù per 30 denari e insieme considera quanto sangue prezioso venga volontariamente sparso dal figlio di dio fatto uomo per la redenzione del genere umano vedi allora quanto è vile meschina la somma che un uomo ricava vendendo dio e come alto invece il costo dell'uomo comprato da lui voglio ripetere ancora una volta me stesso che il salvatore ha offerto il suo sangue per farmi ottenere la grazia del perdono dei miei peccati e poi chiedermi se ho tratto aggiovamento da questa grazia e se ho unito ai suoi meriti la mia penitenza sei tu gesù che rispondi per me attraverso la voce del profeta lamentandoti che finora sono stati infruttuosi per me il tuo amore e il tuo sangue è vero hai perfettamente ragione di rammaricarti e me ne dispiace ti prego aiutami tu a cambiare perché possa dimostrarti la mia gratitudine pratica terrò sempre presente gesù agonizzante che alla fine dei secoli con l'autorità di giudice condannerà chi non avrà voluto convertirsi rifiutando così la sua misericordia grazie a tutti